L'attività parte dal 12 giugno quando ci fu un tentato furto all'oasi di Piano Daccio. In quella circostanza, utilizzando un carroattrezzi, i malviventi tentarono di asportare il bancomat e fecero anche notevoli danni all'attività tutta intorno. Da quel momento, su input della procura, abbiamo avviato tutta una serie di accertamenti, abbiamo acquisito delle telecamere del posto, abbiamo fatto anche un'attività di studio delle celle telefoniche e siamo riusciti ad identificare queste tre persone che nella mattina d'odierna sono state arrestate a Latina in collaborazione con la squadra mobile di Latina. Le persone e generalità? Questi parliamo di un rumeno e di due italiani però rom, nomadi. Sono soggetti conosciuti che solitamente svolgono questo tipo di attività illecita e che quindi sono stati monitorati anche da altri uffici investigativi. Dall'attività di indagine è emerso che erano soliti, soprattutto nel fine settimana, perpetrare furti in altre regioni, quindi ci sono adesso allo studio una serie di episodi da analizzare e da verificare. Eventuali altre persone coinvolte? È chiaro che questo è oggetto di indagine, certo.